Ben trovati alla terza edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di ambiente perché è terminato oggi il viaggio di Goletta Verde nella nostra regione. 5 degli 8 punti di campionamento risultano fortemente inquinati. Questo è il risultato delle analisi illustrate oggi a Pineto. Goletta Verde che ha lanciato un monito che è quello di vincere la sfida della depurazione. Andrea Costantini. Sabato l'approdo a Vasto. Stamani l'arrivo a largo delle spiagge dell'area marina protetta a Torre del Cerrano a Pineto. Goletta Verde, l'imbarcazione con cui il legambiente attraversa i mari e le coste italiane, portando avanti la sua campagna contro inquinamento, trivelle e abusi di lizi, chiude oggi le sue giornate abruzzesi. E l'occasione è ideale per presentare i dati dei campionamenti effettuati nella nostra regione. Su 8 punti analizzati 5 sono risultati fortemente inquinati. Foce del Vibrata ad Albadriatica, del Feltrino a San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fosso Valle Lunga a Pescara, Foce del Saline a Montesilvano, del Fiume Cerrano a Silvi. Nella norma Fosso Dragone a Torino di Sangro, Piazza Primo Maggio a Pescara e la spiaggia davanti via Town di Revella a Giulianova. La causa di tutto questo è come sempre una scarsa depurazione ma anche gli scarichi illegali. Devo ricordare che questo è un paese ancora dove un cittadino su quattro sversa direttamente nei nostri mari, nei fiumi e nei laghi. Quindi noi continuiamo a dire da anni che è la prima infrastruttura sulla quale i nostri governi, regioni, comuni dovrebbero lavorare proprio per migliorare lo stato di salute dei nostri mari. La regione ha messo in campo negli ultimi anni anche investimenti importanti, però qui anche i comuni devono fare la loro parte. Noi stiamo chiedendo con forza una maggiore sinergia sia per chiudere rapidamente le strutture che sono state messe in campo, parliamo di investimenti che aumentano a circa 270 milioni di euro, ma anche lavorare in modo più sinergico sui contratti di fiume. È positivo il lavoro fatto finora ma bisogna andare oltre, bisogna entrare di più nella dimensione di bacino di ciascun'area e deve diventare una prassi su tutta la regione. Quindi possiamo dire oggi con questi dati che monitoriamo una realtà che tende a riemergere, però ovviamente sficcare questa salita è un impegno forte e deve essere fatto sinergicamente da parte di tutti. L'ambiente, in quella che vuole essere la regione verde d'Europa, può essere una risorsa importante per il comparto turistico. Ecco perché sabato, a Vasto, Legambiente e Regione Abruzzo hanno firmato il protocollo per il turismo attivo. Turismo di massa che è sempre meno richiesto, in realtà viene sempre più valorizzato un turismo di qualità, perché ovviamente in vacanza ci si vuole rilassare, si vuole gustare il buon prodotto, il vino dà la gastronomia al vino, alle eccellenze. L'Italia si gira e ci si viene anche per queste ragioni, perché non valorizzarle? Ed ora invece ci occupiamo di trasporti. Il socio unico di TUA, Regione Abruzzo, ha approvato il bilancio di esercizio 2016 dell'Azienda Unica del Trasporto Abruzzese. 27 milioni di passeggeri trasportati e circa 37 milioni di chilometri percorsi da TUA. Soddisfatto della gestione del Presidente Tonelli, il Governatore della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ascoltiamo nella prossima intervista. Sono molto soddisfatto del lavoro che hanno fatto, ma naturalmente abbiamo ulteriori, importanti e ambiziosi obiettivi. Quali sono i numeri di questa gestione? 700 mila euro di utile di esercizio. Abbiamo 26 milioni e 500 mila viaggiatori serviti su 35 milioni di chilometri stradali condotti, fatti. Abbiamo qualcosa come 1.606 dipendenti che rappresentano la centralità di questa capacità organizzativa. Abbiamo organizzato la riduzione della contribuzione pubblica, l'innalzamento della quantità del servizio e l'aumento dell'utile di esercizio. C'è un dato che abbiamo messo in campo 40 milioni di euro, definiti con il Ministero delle Infrastrutture e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per rinnovare il parco rotabile. Un parco oggi che è composto da mille vettori, sia quelli di gomma che di ferro, che noi vogliamo rinnovare, poiché vogliamo abbassare l'età media di questi mezzi. Noi vogliamo anche valorizzare i beni immobiliari di TUA, facendo in modo che quando TUA ha, valorizza, quando TUA compra, compra, sapendo comperare, dando bene il prezzo e dando bene il valore. Io sono soddisfatto, consapevole che la qualità delle città, il rating della qualità delle città come vita deriva dalla qualità dell'offerta del trasporto. Ho chiesto a TUA di aumentare il raggio del servizio nelle città capoluogo. Se la vita universitaria sfonda la mezzanotte, anche la vita del servizio di TUA deve superare la mezzanotte, perché attraverso il trasporto di qualità si rende possibile la riforma sanitaria, la qualità dei diritti rispettati. Abbiamo anche chiesto che TUA si faccia carico di due promesse, di due impegni che deve mantenere. Lo statuto del viaggiatore, dell'utente viaggiatore, quali sono le sue certezze, i suoi diritti e i suoi doveri. E poi anche un contratto di programma rispetto a investimenti al futuro, per fare in modo che sempre di più TUA sia all'altezza della domanda di spostamento degli abruzzesi e di chi ci viene qui. Parliamo di cifre. Ed ora una notizia di lavoro. 30 procedure di mobilità nei confronti di altrettanti lavoratori della Allibarton di Ortona. Sono state aperte dalla multinazionale attiva nel settore degli idrocarburi. Un provvedimento che giunge a un anno di distanza dai 60 licenziamenti nello stabilimento abruzzese. Ad essere interessata dalla nuova ondata di Etagli è quasi il 30% dell'attuale forza lavoro nella sede ortonese, dove complessivamente sono occupate 104 persone. Domani ad Ortona sindacati e lavoratori si riuniranno in assemblea per analizzare la situazione. mercoledì ci sarà l'incontro tra i rappresentanti sindacali e i vertici dell'azienda. Pescara ad ottobre ospiterà il meeting fra Italia ed Algeria. Questa mattina l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Algeria in Italia ha visitato Palazzo di Città per incontrare il sindaco di Pescara Marco Alessandrini. Avvicinare i due paesi Algeria e Italia legati da profonde radici culturali comune da tantissimi interessi economici che rendono il nostro paese il primo cliente dello Stato nordafricano. Il 19 e 20 di ottobre Pescara sarà il trade union perché ospiterà il meeting tra i due paesi del Mediterraneo. Si tratta di un incontro istituzionale finalizzato ad agevolare scambi culturali ed economici fra i rispettivi territori. Questa mattina l'ambasciatore algerino in Italia ha visitato Palazzo di Città incontrando il primo cittadino di Pescara per condividere l'organizzazione dell'evento ed approfondire e discutere i rapporti che nasceranno con il paese africano. Oltre alle iniziative bilaterali che prenderanno vita entro l'autunno prossimo in sinergia con il World Trade Center di Pescara e il World Trade Center di Algeri, gli altri enti del territorio e i rappresentanti del comparto economico. Ho appena avuto un incontro con il mio amico Marco Alessandrini di cui abbiamo parlato appunto delle relazioni economiche tra Algeria e Italia ma abbiamo convenuto sul fatto che Pescara sarà il punto di partenza di queste relazioni. Sono molto importanti le relazioni economiche tra l'Algeria e l'Italia. L'Italia è il primo cliente, diciamo primo partner economico dell'Algeria e il secondo e il terzo su alcune anche forniture dipende dal periodo. Partiremo quindi da Pescara per far conoscere questi 2000 anni di storia che pochi conoscono e dobbiamo assolutamente quindi recuperare questo gap storico e far conoscere tutte le nuove generazioni, i rapporti storici che ci sono stati, relazioni che ci sono state non solo storiche, economiche e culturali tra l'Italia e l'Algeria. Oggi pensiamo che appunto la cultura resti uno strumento formidabile per avvicinare le persone e favorire naturalmente gli scambi economici. A margine infatti del forum economico stesso ci sarà un'iniziativa culturale cui teniamo molto perché ci sarà una mostra di artisti algerini in Italia e noi rispondiamo fra virgolette con un grande fotografo pescarese, Luciano D'Angelo che da oltre 40 anni fotografa le miraviglie archeologiche dell'Algeria che sono davvero straordinarie perché 2000 anni di storia hanno lasciato tracce e vestigia molto ben presenti che potremo ammirare appunto il 19 e il 20 di ottobre prossimi. Ed ora siamo alla cronaca tragedia a Villa San Sebastiano, una frazione di Ettagliacozzo in provincia dell'Aquila schiacciata dal peso di un cancello che si è sganciato e morta una giovane di 23 anni indagano i carabinieri. Daniela Rosone Tragedia a Villa San Sebastiano, frazione di Ettagliacozzo in provincia dell'Aquila una giovane di 23 anni di origini macedoni, Arbutina Amsa è morta schiacciata sotto il peso di un cancello all'interno della cooperativa agricola La Villa. La vittima infatti era la giovane figlia del custode dell'azienda. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 21. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane stava chiudendo il grosso cancello in metallo che sganciandosi dallo scorrimento le è caduto addosso uccidendola. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 allertati dai familiari della giovane vittima che non hanno potuto far altro però che constatare il decesso della ragazza che aveva riportato lesioni gravissime che le sono state fatali. Le indagini invece sono coordinate dai carabinieri della compagnia d'Ittagliacozzo sul posto per tutti i rilievi del caso. La dinamica dell'incidente è al baglio degli inquirenti per valutare se esistono delle responsabilità. Una morte che ha lasciato attoniti gli abitanti della piccola comunità di Villa San Sebastiano dove la ragazza viveva con la famiglia all'interno della stessa azienda agricola. La famiglia in paese era conosciuta, la ragazza era arrivata in Italia da anni, aveva frequentato anche l'istituto tecnico per il turismo di Tagliacozzo. Nei giorni scorsi nell'azienda agricola c'era stato anche un altro incidente, era andata a fuoco un capannone con del bestiame all'interno ma i vigili del fuoco erano riusciti a spegnerlo e le attività erano proseguite subito. In quel caso esclusa l'ipotesi del dolo. La magistratura vezzanese ora vuole vederci chiaro e abbalendosi dei rilievi dei carabinieri di Tagliacozzo cercherà di ricostruire al meglio tutta la dinamica dell'incidente per capire soprattutto come il grosso cancello possa aver ceduto in quel modo uccidendo una ragazza di soli 23 anni. Ed ora torniamo ad occuparci di ambiente, questa volta un aspetto positivo perché andiamo nella lecceta di Torino di Sangro, siamo in provincia di Chieti lungo la costa dei Trabocchi. Questa è una delle tante bellezze naturali d'Abruzzo, una foresta litoranea tra le più estese dell'Adriatico che al suo interno ha anche una notevole varietà di alberi oltre ovviamente ai lecci. Vediamo il servizio. Giorni d'estate, previsioni meteo più che confortanti, la costa adriatica che sarà presa d'assalto, le aree interne, i parchi d'Abruzzo, altre mete che promettono afflussi interessanti. Splendida infatti è la lecceta di Torino di Sangro, un'area naturale protetta dell'Abruzzo istituita nel 2001. La riserva si estende per 175 ettari a sud della foce del fiume Sangro, al ridosso della costa dei Trabocchi. Simbolo di questa riserva è la testugine di Erman, anche se i motivi per cui è diventata un'area protetta e di importanza ambientale fin dal 1971 sono dovuti alla macchia mediterranea mista in cui il leccione è la specie più rappresentativa. Nella lecceta, gestita da un'apposita cooperativa, è possibile fare lunghe passeggiate, usufruire di un percorso riservato alla montanbaica, mirare una natura incontaminata di grande impatto. Il botanico Aurelio Manzi. Lecceta di Torino di Sangro è un bosco bellissimo, straordinario, e la foresta litoranea più estesa dal Gargano al Monte Conero. Si tratta essenzialmente di un bosco di lecci, ma non c'è solo leccio, c'è una diversità di alberi straordinari, ci sono querci, cerri, frassini, aceri, ci sono diverse specie. Peraltro, in solo 300 ettari, se ben ricordo, l'estensione della lecceta, ci sono circa 650 specie di piante diverse, quindi c'è un'altissima biodiversità. Uno non se lo aspetterebbe da un bosco che sembra uniforme, ma uniforme non è assolutamente. L'interessante è anche la vifauna, che fa di questa riserva il punto di partenza per raggiungere le altre riserve interne della regione. Tutto questo mentre ultimamente è stata riscoperta un'antica vite selvatica, da cui poi è nata proprio la vite coltivata dall'uomo. Ora ci spostiamo in provincia di Teramo a Colonnella per andare a vedere l'inaugurazione del nuovo centro di addestramento dei cani della protezione civile, un centro dedicato appunto all'addestramento delle squadre di primo soccorso, ma aperto anche ai normali, tra virgolette, cittadini. Vediamo insieme. Quello di Colonnella, in provincia di Teramo, è il primo centro di addestramento cinofilo in Abruzzo, un centro di addestramento dei cani aperto a tutti, ma con una particolare attenzione alle unità di protezione civile, le prime ad intervenire in caso di calamità naturali, fondamentali ad esempio nel primo soccorso in caso di slavina o terremoto, oppure in zone impervie. Qui a Colonnella abbiamo oggi inaugurato il primo centro di addestramento cinofilo qui in Abruzzo. Questo particolare segmento dell'attività di protezione civile, ovvero delle unità cinofile, possa davvero anche in Abruzzo consolidarsi e svilupparsi. Non dimentichiamo che questa specifica attività è quella che si utilizza nei primi minuti, nelle prime ore immediatamente successivi a un disastro, a una tragedia. E' quindi un tema che proprio sulla specifica attività di soccorso deve essere massivamente attenzionato da parte nostra e quindi deve avere tutte le risposte che chiede da parte di noi, istituzioni. Noi siamo otto unità cinofile in preparazione, ovviamente perché operative c'è la mia che ha superato una fase del brevetto, però poi deve andare avanti e gli altri sono ancora nella fase di preparazione. E poi ci sono gli altri che sono 12 persone che si occupano di soccorso tecnico, quindi di recupero in zone impervie tramite imbragature, corde, quindi per recuperare e soccorrere in zone impervie. L'associazione l'abbiamo fondata a dicembre, è un'associazione che vorrebbe diventare un'associazione di riferimento per tutti, perché fare cinofilia non è facile quando si è da soli. Questo è un gruppo che nasce anche per diffondere un po' la cinofilia, quello che è, perché tante persone amano i cani, amano, però bisognerebbe proprio indirizzarle per il rispetto sia degli altri, sia di chi non tollera gli animali e sia di chi li ama e non sa magari come gestire. Il campo è a Colonnella, è una zona fantastica, è un'oasi naturalistica privata dove ci hanno assegnato un piccolo pezzetto di terra dove abbiamo praticamente allestito una zona di attesa, una zona lavoro. Grande presenza di pubblico ieri nella tradizionale cerimonia della processione per la festa di Sant'Andrea a Pescara, cerimonia che è stata dedicata alle tragedie del mare e non poteva non esserlo, visto l'ultima che è accaduta in ordine di tempo, quella dei due marittimi di Giulianova martedì scorso. Tra poco ci sarà la chiusura con i fuochi pirotecnici a mare che appunto determineranno la fine della festa che si svolge nei pressi del porto canale di Pescara. Vediamo insieme il servizio di Vestina News. Riccardo Padovano, un momento tanto atteso come la processione di Sant'Andrea. È stato il momento più bello perché oggi abbiamo dedicato questa manifestazione per lanciare la corona a quei due marittimi che sono scomparsi ieri in settimana a Giulianova, ma al di là di tutto mi hanno tenuto conto che questa festa, oltre ad essere religiosa, ma nell'aspetto laico, è anche un momento di attività turistica. A fianco a me c'è una turista milanese, ma di origine pescarese, che è venuta qua presa da questa iniziativa e sta... Ogni anno vengo volentieri alla festa di Sant'Andrea, mi piace tantissimo. Una tradizione importante per la città di Pescara. Per la città di Pescara io credo che queste rientri nel programma della regione Abruzzo, di manifestazioni così importanti in Abruzzo, non è che ce ne siano molte. Io credo che questa come manifestazione del mare, una manifestazione è la giostra di Sulmona, poi ci stanno le manifestazioni invernali, io credo che l'Abruzzo sia completo, ma il vero dramma è che la politica non riesce a combinare queste cose. Durante questa manifestazione di Sant'Andrea comunque abbiamo visto l'inaugurazione di una statua dedicata alle donne, e in più la statua che si è fermata davanti ha un simbolo importante per ricordare le vittime scomparse. Allora, per la statua un'idea di Riccardo Padovano è dedicare una statua, una stela alle donne della gente di mare, che in nessun porto d'Italia esiste, esiste solo la figura del simbolo del pescatore, invece le donne per me sono i pilastri delle famiglie dei pescatori. Due, ci siamo fermati alla fine per ricordare la famosa tragedia in mare di cui 20 pescatori saltarono in aria a causa di una mina che scoppiò, nel mentre loro pescavano. Domani prenderà il via la diciannovesima edizione della stagione concertistica di musica antica denominata 600-900. La rassegna è tra le più importanti ed apprezzate d'Italia e sarà ospitata in location all'interno dei parchi d'Abruzzo. Prendere il via domani e proseguirà per tutto il mese di agosto la diciannovesima edizione della stagione di concerto di musica nei parchi regionali organizzata dall'Associazione Ensemble 900 che da oltre 15 anni si dedica all'organizzazione della stagione di concerti di musica antica denominata 600-900 con strumenti d'epoca del XVII e XVIII secolo. Manifestazioni di alto interesse storico e musicologico che molto spesso si avvalgono dell'utilizzo di organi storici poco noti nel panorama strumentale della nostra regione. Quest'anno la stagione dei concerti girerà per le aree verdi e protette d'Abruzzo. Ensemble 900 è un'associazione che da anni lavora con delle manifestazioni musicali di altissimo livello a valorizzare questi nostri territori. È stato fatto un lavoro significativo che va nella direzione di recupero degli organi di San Valentino proprio perché vorremmo ricostruire quella che è la storia delle opportunità in termini musicali delle nostre realtà, anche la musica sacra. In questo contesto si inseriscono queste iniziative che oggi presentiamo e che servono ancora per i prossimi anni a valorizzare questo nostro territorio. Una serie di concerti importanti con delle location molto belle ad esempio la fortezza in Santo Spirito ad Ocre e San Valentino insomma con le sue chiese barocche insomma veramente tantissime località. Apriamo il primo di agosto come ho menzionato Stefano Bagliano e chiudiamo il 30 di agosto a San Valentino con l'Ensemble Musiche della Camera di Napoli con un programma dedicato al 700 napoletano. All'interno di questa fascia di concerti abbiamo tre premi internazionali ecco ci terrei a citare un importante organista Dimitri Goldobini che si cimenterà con un bellissimo organo del 600 a Scanno presso la chiesa di Sant'Eustachio. Poi abbiamo le nostre produzioni quest'anno dedicate ad Antonio Vivaldi e ad altri compositori del 700 Veneto. Ed ora la festa della trebbiatura a Colle San Vito frazione di Tornimparte a pochi passi dall'Aquila questa antica tradizione rivissuta con la rimessa in funzione di una trebbia dei primi del 900 un connubio questo fra passato e presente che può ancora insegnare molto soprattutto alle giovani generazioni. Vediamo. La tradizione contadina che si incontra di nuovo con la modernità dei nostri giorni i sapori del passato e gli antichi mestieri che rivivono tra le viuzze di un paese che sembra incantato e rimasto indietro nel tempo siamo a Colle San Vito frazione del popoloso comune di Tornimparte a pochi passi dall'Aquila. Ogni anno negli ultimi giorni di luglio l'associazione culturale Rocca San Vito organizza la festa della trebbiatura giunta alla sua undicesima edizione un percorso tra i sapori del paese con la degustazione di prodotti tipici della cucina locale preparati a mano dalle donne del posto il percorso degli antichi mestieri con gli artigiani in azione tra gli archi e le vie del borgo e regina ogni anno della festa la vecchia trebbia dei primi anni del novecento azionata dai paesani in abiti tradizionali a rievocare l'antica trebbiatura che all'epoca era una vera e propria festa. Accanto a tanti eventi collaterali una tre giorni ricca di tradizione e cultura un borgo che diventa meta anche di tanti turisti in estate un'associazione viva che mantiene le tradizioni di un tempo anzi le tramanda ai più giovani. Ed ora siamo alla pagina dello sport iniziamo dal Pescara che continua a lavorare nel ritiro di Palena ovviamente però tengono banco le voci di mercato soprattutto in relazione alle difficoltà nel concretizzare le eccessioni per una rosa che lo stesso Zeman ha detto che è ancora troppo ampia da questa mattina intanto è iniziata la vendita libera per quanto riguarda gli abbonamenti sentiamo Andrea Costantini terza giornata di lavoro per il Pescara nel ritiro di Palena è la settimana che porterà al debut ufficiale stagionale del Delfino che domenica prossima alle 20 e 30 salvo variazioni per motivi televisivi riceverà all'Adriatico Cornacchia la Triestina di Sannino ripescata in Pectore in Serie C per il secondo turno di Team Cup Gli alabardati si sono qualificati battendo di misura a domicilio l'Arezzo intanto è sempre il mercato a tenere banco soprattutto sul fronte delle uscite per il quale si fa fatica a mettere nero su bianco una difficoltà che si ripercuote sul fronte delle entrate visto che la rosa extra large impone di cedere prima di poter acquistare giocatori compatibili col progetto Zemaniano nelle ultime ore è emerso l'interesse dell'Ascoli per Michele Fornasier ma la trattativa deve ancora decollare curiosamente l'ex d'Oriano non è a Palena al pari di Cesare Bovo entrambi sono infortunati e anche Bovo potrebbe salutare il Pescara in caso di chiamata dalla Serie A Crotone e Spal ci stanno pensando gli svizzeri del Sion non hanno ancora affondato il colpo per accaparrarsi il capitano Ledyan Memuschai pezzi pregiati del mercato restano Zampano Biraghi e Benali su Zampano è piombata l'Udinese che è individuato nel laterale genovese il vice Widmer Benali e Biraghi restano nel mirino della Sampdoria sul difensore milanese c'è sempre l'interesse del Chievo manca solo l'ufficialità per Vitturini in prestito al Carpi e per Polidori alla Provercelli mentre attendono sistemazione gli altri giocatori non portati a Palena e che si allenano al Poggio sarà questa una settimana intensa per il Delfino con le amichevoli di domani alle 17.30 sempre nel comune della provincia di Chieti contro la Fidelissandria giovedì test in famiglia contro la primavera di Massimo Epifani e subito dopo la presentazione in piazza sempre a Palena intanto con la chiusura della fase per esercitare la prelazione da questa mattina alle ore 10 è iniziata la vendita libera delle tessere di abbonamento e riprenderà a lavorare domani allo stadio Bonolis di Teramo la squadra di Asta che giovedì sosterrà una nuova amichevole contro la Torrese squadra di promozione domenica intanto ai 20.45 è fissato il debutto stagionale in Coppa Italia con la Fermana sul neutro di Fano sul fronte mercato la società lavora per chiudere l'affare Bacio Terracino terminato il ritiro di Alfedena il difensore Neville Caidi traccia un bilancio delle giornate vissute di intenso lavoro agli ordini di mister Asta lo sentiamo al microfono di Jacopo Forcella Neville si chiude questo ritiro precampionato con una vittoria contro la Fidelissandria il mister Asta ha detto comunque è importante vincere perché vincere dà comunque qualche sicurezza in più anche a livello aumentale sì sempre vincere è importante anche in allenamento quindi vincere fa bene conta poco però conta poco al fine del risultato insaperse però dentro di noi sappiamo comunque abituarsi a vincere è importante abbiamo fatto un buon test ho visto delle cose positive perché comunque c'erano dei ragazzi giovani in campo che hanno dato tutto e se quest'anno il Teramo dà tutto può dar fastidio a tanti come la O vedi questo Teramo decisamente più giovane schierato in campo a me piace a me piace perché penso che in Lega Pro l'esperienza conta fino a un certo punto perché quando vai più forte degli altri è dura per gli altri quindi noi con tanti giovani speriamo di metterci quell'intensità e quell'agonismo che è importante in questa categoria si chiude questo ritiro che voto dai a questi giorni in cui siete stati ad Alfedena voti voti particolari non mi vengono buono comunque abbiamo fatto bene siamo allenati bene adesso è importante comunque mettere benzina nelle gambe quindi abbiamo lavorato tanto col prof quindi un po' in sé per sé magari le amichevoli lasciano il tempo che trovano perché magari una volta sei più imballato una volta meno però penso che comunque anche nell'uscita che abbiamo fatto per ora abbiamo fatto delle buone prestazioni quindi sono contento hai salutato Mirko Pedrella con un poste che non è non è sfuggito insomma l'addio di un compagno di squadra anche ex compagno di camera si si è un amico dispiace perché è un ragazzo che è stato qua tanti anni è forte e gli auguro gli auguro il meglio nella sua carriera nella sua vita ecco dovessi ritrovarlo ad avversario speriamo di no perché va a 3.000 quindi Mirko è forte quindi spero di rincontrarlo perché comunque lo rivedo però se mi punta sono cavoli ecco in serie D dopo la vittoria di campionato col Bisceglie Federico Cerone ha scelto i colori dell'Avezzano per tentare una nuova scalata al successo sentiamo l'intervista di Roberta Di Sante per Federico Cerone è un po' un ritorno alle origini quello di tornare ad Avezzano sei stato a Bisceglie lo scorso anno però in realtà c'è un qualcosa che ti lega un po' a questa terra sì diciamo che le mie origini sono marsicane i miei genitori mio papà che è di Pescina e mio zio che vive qui ad Avezzano quindi mi sento a tutti gli effetti un marsicano tu l'anno scorso hai vinto il campionato a Bisceglie quindi insomma quest'anno tenteremo di ripeterci ma l'auspicio è quello sicuramente bisogna lavorare per raggiungere l'obiettivo non sarà facile ma insieme ai miei compagni cercheremo di di provare a raggiungere qualcosa di storico è stata messa su una squadra con insomma tanti tanti nomi adesso dai nomi dai singoli bisognerà lavorare per farla diventare effettivamente squadra da dove si comincia sì sulla carta abbiamo abbiamo allestito anzi il presidente ha allestito una rosa di prim'ordine poi sicuramente come dicevano diceva il mister è il campo che parla però le basi ci sono tutte adesso bisogna iniziare a lavorare che cosa può dare Federico Cerone a questo avezzato ma no ma di promesse non se ne fanno spero di poter fare qualcosa di sicuramente di positivo e poi sarà sempre il campo che parla è tutto per quanto riguarda la seconda edizione del TG6 il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle 23 grazie per essere stati con noi vi auguro la buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti